amici di varisotto ciao a tutti ci troviamo oggi presso l'associazione anfora a travedono monate con noi cioè allora eleonora monica e linda allora una allora eleonora parti tu e così ci racconti la tua associazione alla vostra associazione che sta facendo cose meravigliose e ce le racconti tu va bene allora l'associazione lanfora è nata a gennaio da appunto eleonora monica e linda siamo due ostetriche e una naturopata l'idea era quella di completare l'offerta che del sistema sanitario nazionale per quanto riguarda me e monica ci abbiamo ci siamo rivolte ovviamente soprattutto alle mamme ai bambini all'aspetto della maternità perché il sistema sanitario nazionale arriva fino al parto e dopo non c'è più niente quindi il motore di tutta questa associazione è stato quello di creare uno spazio apposta per le mamme e i bambini per l'allattamento per il massaggio per tante altre informazioni attività che le mamme hanno diritto di avere ci siamo poi un po allargate sulla gravidanza sull'informazione in gravidanza e sulla libera scelta anche del tipo di assistenza che si vuole ricevere in gravidanza e del luogo del parto a questo a tutto questo si è aggiunta completandola l'offerta della nostra linda naturopata perché ha dato un taglio più olistico a tutta l'associazione anche linda è interessata agli aspetti della maternità e quindi siamo volute abbiamo voluto comunque partire da questo punto però ampliando appunto l'offerta come adesso poi ci racconterà anche monica allora noi allora passiamo la parola a monica monica tu invece vi parlo nel dettaglio di che cosa facciamo abbiamo dei gruppi uno specifico per le mamme si tiene il martedì mattina dalle 10 alle 12 è uno spazio di condivisione tra mamme sempre accompagnate da un'ostetrica o me o leonora o da una mamma esperta le mamme si siedono insieme con un tappetone davanti con i loro bambini in uno spazio caldo e confortevole molto bello abbiamo poi un gruppo per adulti tenuto invece da linda a lunedì sera alle 18 è un gruppo di rilassamento e di autoascolto con tecniche piccole applicabili da tutti nella quotidianità per star meglio con se stessi ci sono poi i corsi pensati per i più piccoli il corso di massaggio neonatale tenuto da roberta la nostra insegnante aimi e il corso di portare in fascia tenuto da valentina una delle nostre mamme certificata a portare i piccoli la nostra associazione offre anche tante serate a tema tante conferenze dall'osteopatia in gravidanza a quali strumenti utilizza possono utilizzare i genitori per conciliare famiglie lavoro consulenze di naturopatia offriamo tantissime iniziative che vedete anche esposte alle nostre spalle nelle tante locandine ok allora facciamo la parola linda sì e racconta perché va bene il discorso mamme che è il punto focale perché sono io mamma ma poi ci siamo resi conto che si partoriscono anche tante idee la creatività non ha limiti a questo punto e ci sono tante attività pensate inizialmente per mamma e genitori e poi ci siamo resi conto ma perché non estenderle a tutti possono essere utili per tutti il gruppo di autoascolto è stato pensato i bambini piccolissimi non parlano bisogna imparare ad ascoltare segnali e linguaggi diversi da quello verbale ma questo è utile per noi come adulti con noi stessi ma anche con gli altri nel lavoro nella vita quotidiana e da qua anche i laboratori di autoproduzione come i dentifrici naturali o laboratori di mandala di lana dove si esprime la creatività in maniera diversa dove dà soddisfazione supporta l'autostima e quindi crescita personale non solo dei propri figli bene allora come avete sentito eleonora monica linda hanno delle idee fantastiche offrono un servizio eccezionale a mio dire loro sono veramente simpatiche veramente brave quindi amici di varisotto condividete condividete su facebook vero voi avete su facebook ci trovano sulla pagina facebook associazione l'anfora di travedona monate oppure sul nostro sito internet www.lanfora.wixsite.com slash lanfora quindi condividete e contattatele perché sono veramente veramente in gamba e da travedona è tutto buon lavoro ragazze grazie 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 a tutti